Salve a tutti, io sono Daniel Tarozzi, sono qui con il dottor Franco Berrino, sono di mestiere giornalista e fondatore del progetto italiachecambia.org. Sono oggi particolarmente lieto di annunciare questa collaborazione che sta nascendo tra Italia che cambia e la Grande Via per fondare la Guida Nomade. La Guida Nomade è qualcosa che nasce dalla difficoltà che abbiamo sempre incontrato quando si viaggia, quando si va in giro per l'Italia, di trovare un posto dove ci sia qualcosa di commestibile da mangiare e allora abbiamo pensato che sarebbe importante diffondere l'informazione sui produttori etici, produttori che amano il loro lavoro, che amano la terra, che amano produrre un cibo pulito, un cibo che fa bene alla salute, dove si possa trovare qualche cosa diverso e diverso da quello che propone oggi la grande distribuzione, la cucina internazionale, la cucina di televisione e dove si possano trovare i cibi semplici, dove si possa mangiare il cibo tradizionale della nostra cucina mediterranea, ma non trasformato, arricchito per farlo più accattivante, proprio il cibo semplice, il cibo della nostra cultura contadina e anche dei luoghi, dei luoghi dove stare, dei luoghi dove meditare. E' dedicata a chi ha la consapevolezza dell'importanza delle scelte quotidiane. Esattamente il lavoro anche di Italia che cambia e tra l'altro anche qui abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di essere parte di questo processo perché quello che noi facciamo è raccontare e mappare questa Italia che cambia e quindi questo lavoro di mappatura che noi già in parte stiamo facendo. Si inserisce perfettamente nella vostra attività. Esatto, vi aspettiamo sulle nostre pagine web, facebook e a presto. Grazie. 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 Grazie.